Frittata in italiano, omelette in francese e è simile a tortiglia per spagnia, perché la tortiglia è davvero molto buona, ma la base è sicura, provate. Frittata, con onion, con onion. Ora sono separati, per il mio gusto devi mettere tutti insieme. Frittata, con onion e con potato. Questo è un gatto, è fatto con potato e cat. No, è un gioco in italiano, perché in Italia diciamo che cat è gatto, ma se si trasporta l'accento, gatto, gatto, questo è un gatto. Quindi le cat. 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 Mozzarella, salami, salami e... Salami. 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 E... Ah, ok. Ehm, important for turkish guys, il suo sport inzio. Ehm, guverna? Ehm, guverna? Ehm, guverna! Eh, guverna! Ehm, guverna! Cosa! Guverna! È un pochio! Cosa! È un pochio di queste. Ok, che vedrï. Cosa? Cosa? È un pochio di buro. È un pochio di buro. Sì, ma gli italiani mi chiamano cantuccini, ma mi chiamano di burzelletti. Ok, questi sono cantuccini, ma in specifico non siamo persone italiane, siamo persone sud italiane. Per noi sono murzelletti. È meglio o no? Sì, sono duri come un concreto di rinforzamento. Quindi prezzi attenzione quando fanno. E solo un'altra cosa? No, con il vino, con il vino. Non c'è tanto. Non c'è tanto. Non c'è tanto. Chi ha fatto? Non lo vedete. Questo è un po' di carne. Questo è un po' di carne. Questo è un torta, solo un cane. E il gusto è di vanilla, chocolate blu. Solo chocolate, ma blu. E ha un sento di peccato. Come un olio dell'ascensionale. Piace. 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 Oh, ok. Bad news per me. Sono allegato di piace. E questo è un po' di carne. E il nome è dolce all'acqua. E questo sembra strano, perché significa che la carne è fatta con l'acqua. Ma è buono. Ho prometto. E è solo un po' di carne. So. 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 E' solo un po' di carne. So. So. E' solo un po' di carne. So. E' molto più... E' allora come giusto? Dai. Tiato d grande. Pi ngày. Di qui per me. C'è Marco è renderlo questo amaro. È muevo del cavolo. Ah, lo petugio. Ok, questo è per l'italiano lavoro del cazzo, ok, questo è per l'after meal, al fine quando quando si mette, è digestivo, e è sauro, molto sauro, ok, scusate l'Italia, ma non mi piace. ... il cazzo, bello, il vino rosa, com'è un paio... Non c'è l'altro, ma c'è l'altro. Do you know Costiera Amalfidana? Si! Ok, Costiera Amalfidana è molto famosa nel mondo, non solo per le bellezze, ma anche per le limone. Della limone, da cui siamo prodotti un liquore fantastico che si chiama limoncello, perché in Italia si chiamano limoni. Quindi limoncello. Ok, hai toccato, certo? Che è questo? White wine? White wine? No, quello. Quello è passito. È passito quello. È passito quello. Home is white wine? Ok, I think that we are... Passito. Passito. Passito, ok. So it's time to try everything. Ok, let's taste everybody. Is it passito? Si.